Anche il mio film è finito. Così Antonino Latargia, 46 anni, aveva manifestato le sue intenzioni in un post su Facebook prima di uccidere la moglie Maria Masi, 41 anni, e poi togliersi la vita. Il fatto è accaduto a Venaria, in via Druento 150, di fronte all'Allianz Stadium. L'uomo aveva invitato la donna a prendere un caffè al chiosco di fronte casa appena lei è risalita in auto. Lui le ha sparato addosso nove colpi di pistola, di cui sei andati a segno. Poi è rientrato in casa e si è sparato alla testa. L'omicida era costretto su una sedia a rotelle da due anni, dopo un incidente che gli aveva provocato un'invalidità dell'85%. Secondo gli investigatori, la coppia, che aveva vissuto insieme nel palazzo in via Druento, si stava separando. La donna, infermiera al CTO, era andata a vivere a Turino dai genitori assieme ai figli di 14 e 11 anni. La targia aveva già minacciato la moglie, tanto che i carabinieri, informati dei fatti, avevano segnalato gli episodi in procura, nonostante lei non volesse sporgere denuncia. Le avevano anche consigliato di non avvicinarsi più all'uomo, ma questo non la dissuasa dall'incontrarlo ancora una volta, un appuntamento che le è risultato fatale. La pistola, una calibro 9 modello gerico, è risultata rubata. In casa di La Targia i carabinieri hanno trovato una ventina di colpi oltre a quelli sparati. Sull'omicidio di Maria Masi sentiamo le testimonianze proprio di chi lavora nel chiosco dove i due hanno preso l'ultimo caffè. Erano qua a prendere il caffè, poi sono tornati alla macchina e lui ha sparato a lei, ma noi non ci abbiamo fatto caso perché sembravano petardi. E poi dopo lui sulla sedia a rotelle è venuto in qua, ha chiesto aiuto a dei clienti per salire su a casa, per fare lo scalino, per entrare nell'androne. E dopo cinque minuti abbiamo sentito altri spari, lì abbiamo realizzato che erano degli spari. Conoscevo di vista la coppia, lei un po' di più perché era una mia cliente del bar che veniva a prendere il caffè molto velocemente al mattino, quindi non è che la conoscevo come famiglia, come coppia. Lei è molto carina, gentile, lui anche. Pochi minuti prima sono stati in un bel posto tutti al bar a prendere il caffè, tranquillissimi. L'ho visto lui, l'ho visto proprio nel viso, molto tranquillo, non era né agitato né turbato. Poi ovviamente sai, nella mente di una persona non puoi sapere i disagi che uno ha. Li ho guardati perché ho detto che è carino, insomma tu ti devo prendere il caffè. E poi sono andati verso la macchina, ovviamente non stai a seguire il cliente con gli occhi quando va via. Mi dispiace che sono tre famiglie rovinate. Quei pochi minuti che uno può servire il caffè, cioè né una parola di troppo né una voce alterata, niente, niente. Poi dopo un po' che si sono alzati, poi dopo pochi minuti è successo quello che è successo. Quindi con quello la gente, siamo rimasti proprio un po' scossi.